Passato un anno morì lasciandomi vedova, un consiglio che mi ritrova nell'anno più bello della mia vita. Infatti quel periodo connubi Francesco Guerra, un ex soldato borbolico. Mi innamorai subito di lui e di essere morti di fare, diventando sua compagna tra i corpanti di una banda di briganti, diventandone una capobanda. Inizia così la mia vera vita da brigandessa, trascorsa tra santi, riberi e sequestri. Tra tanti quello che mi rimase più presto fu la stato al paese di Pianluzzo. Alcuni di noi, investiti carabinieri, siamo riusciti ad attaccare il paese con un vero e proposto da gemma, e devo aggiungere che molte delle proposte sono proprio le mie. Dopo questo assalto però, arrivò una brutta notizia che ci devono le due aiutori. Il generale Pallavicini fu mandato per interrompere le nostre azioni, usandoli in mezzo a sua disposizione, minacciando a quelli che sono più crudili gli abitanti della zona, a consegnarci a loro in caso ci avessero visti. Una sera, durante un forte temporale, era nascosta con Francesco vicino ad un albero, quando sentivo dei rumori sospetti. Quei maledetti soldati non cedero nemmeno il tempo di scappare, subito spararono colpito sulla testa. Poi ci fosse la vita in piazza del paese di Mignano, il sindaco mi definita sovversiva, ma io per voi chi sono? Una ribelle o una donna coraggiosa in cerca di coraggio? Grazie. 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 vedere alcune manufatte che venivano usate per me ma sta qui a casa a 15 km ed era una vera e propria capo brigante non era una druta come veniva chiamata per insultarlo perché poi dovremmo fare anche su questo tempo c'è l'ultimo pezzo che poi la signora Veste dà i suoi saluti finali la signora Veste alla chiamata ai suoi pariano no si sai Grazie 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 affinché non ci siano più briganti intesi come persone che usano la violenza in un certo paolo, ma anche solo furto, però sempre violenza, per degli obiettivi precisi, per degli obiettivi sedi, sia briganti che usano, utilizzano la violenza per obiettivi meno certi, come delinquenza. Quindi voglio che, siccome la platea è di ragazzini delle medie, voglio scomperare qualsiasi idea che potrebbe intervenire nella mente dei nostri giovani dopo questo bel convegno, un convegno interessante, ma che ovviamente ci deve far riflettere sul futuro. Una volta esiste la violenza, ma esistono anche altre modalità per far sentire la propria voce. Quindi scompriamo intanto questo campo. Poi voglio ringraziare tutti i relatori innanzitutto, ma in particolar modo i ragazzini che sono stati magnifici, hanno lavorato il foglio, leggendo insieme le conoscenze ricevute anche tramite i loro professori e quelle che sono pervenute dal territorio tramite la signora Auricino. Dove sta? La signora Auricino. Prego, prego, prego. Chi è la signora Auricino? La scuola ha pensato di... siccome voglio chiarire a tutti, ai ragazzini, lo sanno, immagino, ma anche ai presenti adulti, che i relatori sono venuti a titolo gradutico. Così come... sto con il favore eccellente con i ragazzini, la signora Auricino. Per cui mi sembrava doveroso, insomma, quantomeno lasciare un rivolgo, un rivolgo da parte della scuola. Quindi grazie molto. Lo stesso vale per Claudio Saltarelli. di... Mi ha dato che è il professore Riccardo. Grazie molto, voglio un ultimo saluto ai professori, non mi smetterò mai di ringraziarvi e non mi smetterò mai di ringraziare, non mi smetterò mai di ringraziare, non mi smetterò mai di ringraziare e non mi smetterò mai di ringraziare, non mi smetterò mai di ringraziare, non mi smetterò mai di ringraziare e non mi smetterò mai di ringraziare, 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 Grazie.